Realtà virtuale, digital twin e metaverso, quali sono le opportunità offerte dalla tecnologia avanzata al mondo delle imprese? Se ne è discusso in un workshop organizzato nel pomeriggio a Comonext, l'Innovation Hub di Lomazzo. C'è tutto un tema legato alla formazione, c'è tutto un tema legato all'essere insieme pur essendo a distanza e quindi a gestire progetti anche a distanza. C'è tutto un tema legato allo sviluppo di attività e di innovazione legate alla possibilità di simulare. Quindi non devo essere per forza in un determinato luogo ma posso essere nel mio ufficio, posso essere a casa mia e simulare di fare qualche cosa che poi mi troverò a fare quando sono fisicamente di fronte a quel problema da risolvere o a quella macchina da far funzionare. Le tematiche sono tante e sono tante anche le tecnologie, non è solo il metaverso, non è solo la realtà aumentata ma ci sono tematiche legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per esempio che vanno a intersecarsi fortemente con le tematiche di cui stavamo parlando prima. Siamo in un momento di grande frontiera come eravamo una ventina di anni fa nei confronti dell'avvento del web. Comunext è pioniere nell'applicazione di queste nuove realtà che il mercato fa ancora fatica a identificare. Abbiamo avviato già due progetti all'interno di queste tematiche che utilizzano queste tematiche. Costruiremo un primo hub dell'innovazione virtuale nel metaverso. Questa è una news particolare su cui stiamo lavorando.